Jason Jason non sapeva cosa augurarsi, fuoco o tempesta. Mentre aspettava l'udienza quotidiana con il Signore del Vento del Sud, tentò di decidere quale delle personalità del Dio, quella greca o quella romana, fosse la peggiore. Dopo cinque giorni trascorsi nel palazzo, era sicuro di una cosa sola. Era improbabile che lui e i suoi compagni uscissero vivi da lì. Si appoggiò all'inferriata del balcone. L'aria era così calda e asciutta da seccare i polmoni. Nell'ultima settimana la pelle gli si era scurita, i capelli gli erano diventati biondi come barba di gran turco. Ogni volta che si guardava allo specchio, rimaneva allibito dall'espressione stravolta e vacua degli occhi, come se fosse diventato cieco vagando nel deserto. Una trentina di metri più in basso, la baia scintillava su una mezzaluna di spiaggia dalla sabbia rossa. Si trovavano in un punto imprecisato sulla costa settentrionale dell'Africa. Era l'unica cosa che gli spiriti dei venti gli avevano detto. Il palazzo si allungava davanti a lui su entrambi i lati. Un alveare di sale e gallerie, balconi, colonnati e stanze cavernose scavate nelle scogliere di arenaria. Il tutto progettato in modo tale che il vento ci soffiasse attraverso, facendo quanto più rumore possibile. L'organo a canne che suonava ininterrottamente ricordò a Jason il rifugio fluttuante di Eolo, in Colorado, a parte il fatto che in Africa i venti non sembravano mai andare di fretta. E anche questo era parte del problema. Nei giorni migliori i venti meridionali erano lenti e pigri. In quelli peggiori erano burrascosi e irascibili. In un primo momento avevano accolto bene Largo II, perché ogni nemico di Borea era un amico del vento del sud. Ma poi sembravano essersi dimenticati che i semidei erano loro ospiti e avevano perso interesse nell'aiutarli a riparare la nave. Lo stato d'animo del loro re peggiorava di giorno in giorno. Giù al molo gli altri semidei stavano lavorando su Largo II. La vela maestra era stata riparata, le sarti e sostituite. Adesso stavano accomodando i remi. Senza Leo, nessuno di loro però sapeva come aggiustare le parti più complesse della nave, neanche con l'aiuto di Buford il tavolino e di Festus, che ormai era sempre attivo grazie alla lingua maliatrice di Piper. Un mistero per tutti. Ma non si davano per vinti. Hazel e Frank erano al timone, ad arrabattarsi con i comandi. Piper trasmetteva i loro ordini a Hedge, che era sospeso su un fianco della nave a martellare i remi per sistemare le ammaccature. Il satiro era un martellatore perfetto. Non sembravano fare grandi progressi, ma visto quello che avevano passato, era un miracolo che la nave fosse ancora intera. Quando ripensava all'attacco di Chione, Jason rabbrividiva. Lui era stato neutralizzato, congelato ben bene. Non una, ma due volte. Mentre Leo era stato scagliato in cielo. Piper era stata costretta a salvarli da sola. Quella ragazza era un dono degli dèi, si disse il figlio di Giove. Piper si considerava un'inetta perché non aveva impedito l'esplosione della bomba di vento, ma la verità era un'altra. Aveva salvato tutti quanti, evitando che trascorressero il resto dei loro giorni in Quebec come statue di ghiaccio. Inoltre, era riuscita a direzionare l'esplosione della sfera di ghiaccio, anche se la nave era stata sospinta in mezzo al Mediterraneo. Il danno subito era relativo. Giù al molo, Hedge gridò, «Provate adesso!» Hazel e Frank tirarono alcune leve. I remi ababordo impazzirono, saltando su e giù e facendo la ola. Hedge tentò di schivarli, ma un remo lo colpì nel sedere, scagliandolo per aria. Precipitò urlando e cadde nella baia con un tonfo. Jason sospirò. Di quel passo non sarebbero mai stati in grado di salpare, neanche se i venti del sud glielo avessero permesso. Da qualche parte al nord, Reina volava verso l'Epiro, sempre che avesse trovato il biglietto nel palazzo di Diocleziano. Leo era disperso. Percy e Annabeth. Beh, nella migliore dell'ipotesi erano ancora vivi e si dirigevano verso le porte della morte. «Non posso deluderli», si disse Jason mentre si girava al suono di un fruscio. All'ombra di una colonna c'era Nico di Angelo. Si era tolto il giubbotto. Indossava soltanto una maglietta nera e jeans dello stesso colore. Portava la spada di ferro dell'ostige e lo scettro di Diocleziano appesi alla cintura. Nonostante tutti i giorni trascorsi al sole, non era bronzato. Semmai era più pallido. I capelli scuri gli cadevano sugli occhi. Aveva ancora la faccia smunta, ma era senz'altro più in forma rispetto a quando avevano lasciato la Croazia. Aveva messo su qualche chilo e non sembrava più che morisse di fame. Le braccia erano sorprendentemente muscolose, come se avesse trascorso l'ultima settimana a combattere. Per quanto Jason ne sapeva, Nico se la sviniava per allenarsi a evocare gli spiriti con lo scettro di Diocleziano e poi si esercitava contro di loro. Dopo la spedizione di Spalato, il figlio di Giove non si sorprendeva più di niente. «Notizie dal re?» domandò Nico. Jason scosse la testa. «Ogni giorno mi chiama sempre più tardi. Dobbiamo andarcene al più presto!» Jason la pensava allo stesso modo, ma sentirselo dire da Nico lo innervosì ancora di più. «Percepisci qualcosa? Persi è vicino alle porte della morte. Avrà bisogno di noi per uscirne vivo!» Jason notò che Nico non aveva accennato ad Annabeth. Decise di non tirare fuori il discorso. «Ok, ma se non riusciamo a riparare la nave, ho promesso che vi avrei portato alla casa di Ade», gli ricordò Nico. «In un modo o nell'altro lo farò. Non puoi viaggiare nell'ombra con tutti noi. E dobbiamo essere al completo per raggiungere le porte della morte». La sfera all'estremità dello scettro di Diocleziano emise un bagliore viola. Nell'ultima settimana sembrava che si fosse allineata con gli stati d'animo di Nico. Jason non era sicuro che fosse una cosa positiva. «Allora devi convincere il Signore del Vento del Sud ad aiutarci!» La voce di Nico ribolliva di rabbia. «Non ho fatto tutta questa strada, sopportato così tante umiliazioni!» Jason dovette compiere un grande sforzo per non mettere mano alla spada. Ogni volta che vedeva Nico arrabbiarsi, il suo sesto senso gridava «Pericolo!» «Senti, se hai voglia di parlare… sì, di quello che è successo in Croazia, io ci sono. Capisco che è difficile e tu non capisci niente! Nessuno ti giudicherà! Davvero? Sarebbe una novità!» «Le labbra di Nico si contrassero in un ghigno!» «Sono figlio di Ade, Jason! Tanto varrebbe che fossi ricoperto di sangue o liquame di fogna, visto come la gente mi tratta! Non mi sento a casa da nessuna parte! Non sono neanche di questo secolo! Ma nemmeno questo basta! Devo pure essere… essere… non è che uno può scegliere, sai così e basta! Solo così e basta!» Il balcone tremò, i disegni ornamentali nel pavimento di pietra si spostarono, come ossa che affiorano in superficie. «Facile per te! Sei il ragazzo che tutti amano, il figlio di Giove! L'unica persona che mi abbia mai accettato in vita mia è Bianca ed è morta! Non ho scelto niente di tutto questo! Mio padre, i miei sentimenti!» Jason cercò di trovare qualcosa da dire. Voleva essere amico di Nico. Sapeva che era l'unico modo per rendersi utile. Ma Nico non lo rendeva semplice. Sollevò le mani, rassegnato. «Sì, d'accordo, hai ragione. Ma sei tu che scegli come vivere la tua vita. Vuoi fidarti di qualcuno? Corri il rischio di diventare mio amico e di farti accettare da me? È meglio che nascondersi!» Il pavimento in mezzo a loro si incrinò. La crepa si bilò. L'aria intorno a Nico si illuminò di una luce spettrale. «Nascondermi!» La voce del figlio di Ade era di una calma mortale. Jason moriva dalla voglia di mettere mano alla spada. Aveva conosciuto un sacco di semidei spaventosi, ma cominciava ad accorgersi che Nico di Angelo, per quanto fosse pallido e smunto, era più di quanto lui fosse in grado di gestire. Nonostante ciò, sostenne il suo sguardo. «Sì, nascondersi! Sei fuggito da tutti e due i campi! Hai talmente paura di essere rifiutato che non ci provi neppure! Magari è arrivato il momento che tu esca dall'ombra!» Proprio quando la tensione stava diventando insopportabile, Nico abbassò gli occhi. La crepa nel pavimento del balcone si richiuse. La luce spettrale svanì. «Manterrò la mia promessa!» disse il figlio di Ade, con poco più di un filo di voce. «Li porterò nell'epiro! Li aiuterò a chiudere le porte della morte! Poi basta! Me ne andrò per sempre!» Alle loro spalle, le porte della sala del trono furono spalancate da una raffica di aria torrida. Una voce disincarnata disse «Il divino Austro vuole vederti!» Sebbene temesse quell'incontro, Jason si sentì sollevato. In quel momento, discutere con un folle dio del vento gli sembrava meno pericoloso che provare a fare amicizia con un arrabbiato figlio di Ade. Si girò per salutarlo. Ma Nico era scomparso, dileguandosi di nuovo nell'oscurità.